All'Emporio della Solidarietà la spesa conviene andarla a fare in autobus. Se presenti il biglietto obliterato, infatti la CAP ti offre quello per il ritorno. È l'iniziativa presentata stamani a Palazzo Bonamici. A partire da lunedì 8 settembre, per un periodo di due mesi durante il quale il progetto sarà sperimentato, la CAP metterà a disposizione dell'Emporio 500 biglietti, che potranno essere usati subito oppure entro sei giorni. L'obiettivo è il maggior utilizzo del mezzo pubblico da parte dei cittadini, in particolare situazioni di disagio ed emarginazione sociale. extra comunitari, ma anche pratesi in condizioni borderline. L'iniziativa è direttamente legata al progetto, attualmente in fase di realizzazione, Mediatori in Bus, realizzato da CAP e Caritas con la collaborazione della provincia. Scopo del progetto è favorire l'integrazione socio-culturale delle numerose etnie presenti sul territorio attraverso l'introduzione di una figura con competenze specifiche, il Mediatore culturale sull'autobus. Il rispetto della legalità, quindi il pagamento del biglietto, unito a quelle iniziative che possono aiutare le persone ad esigenze particolari che hanno. In questo tempo di crisi non si ha i soldi per pagare l'assicurazione, non si ha i soldi per comprare il bollo e tanto altro. E allora è bene che usino il mezzo pubblico piuttosto che andare in giro senza assicurazione.